Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, continuiamo con i tutorial natalizi oggi volevo farvi vedere una piccola variante realizzata con l'ondina, la pallina bellina del tutorial precedente e ho già preparato due palline appunto, una di diametro 8 cm, una di diametro 7 cm per chi se la fosse persa vi invito a riguardarvi il tutorial precedente bene, partiamo subito allora, prendiamo le nostre due palline possibilmente posizionatele con le punte del cerchio che guardino verso l'alto in modo da avere anche una base abbastanza solida aprite leggermente e adesso io vado ad incollare quella piccola sopra quella grande più o meno così procedo, prendo la colla metto un po' al centro eccola qua e un po' intorno ora prendo quella piccolina anche qui cercate di avere il foro centrale praticamente e applicarla su quella grande in questo modo perfetto perfetto mettiamo da parte ora prendo una delle nuove testine arrivate diametro 4 cm alla faccetta di un simpatico pupazzo di neve procedo ad incollare apprendo in questo modo sempre colla a caldo benissimo ecco qua avrete già capito che vorrei realizzare un piccolo pupazzo di neve mettiamo da parte ora prendo tubolari o le famose calzette misura allora lunghezza 35 cm larghezza dobbiamo tagliare 3 cm siccome la calzetta appunto è ancora chiusa è un pezzo ancora nuovo io per tagliare i 3 cm andrò a misurare 1,5 di qui in modo da poi tagliare il doppio e avere l'1,5 anche dall'altra parte arrivare a 3 bene procedo con il taglio per tutta la lunghezza perfetto e ho creato questo filetto qui di tubolare che è una specie di sciarpina bene secondo passaggio allora prendo un pezzetto di tubolare avanzato taglio due striscioline dell'altezza circa di 5 mm quindi una e una due più o meno occhio non importa queste qua ci serviranno per arricchire un attimino il finale della sciarpa quindi prendo il mio cerchietto lo arrotolo in questo modo tipo un paio di volte e lo vado ad infilare sul finale ecco direi di fare un altro paio di volte per stringere un po' e lo tiro fino a giù stessa cosa anche dall'altra parte quindi prendo il mio cerchietto qui ritagliato del tubolare avvolgo un paio di volte su se stesso e metto sul finale perfetto ho creato una mia facsimile di sciarpina andiamo ad applicarla ecco qui intorno al collo del mio pupazzetto in questo modo attenzione a non coprire proprio la faccia faccio un nodo ecco qui a cui si è sfilato risistemiamo gli intoppi della diretta ecco qui e ho messo la sciarpina al mio pupazzetto sistemiamo un po' il giro sciarpa in questo modo e direi che ci siamo perfetto eccoci qua seconda fase berrettino prendo un altro pezzetto di tubolare e la misura è circa 7-8 cm e gli 8 cm del tubolare prendo un spezzone di nastrino di raso fino fino vado quasi in fondo il più possibile che riuscite metto assieme il tubolare prendo il mio nastrino e faccio due nodi legandolo uno e due taglio via il nastrino in eccesso e ora stessa cosa mi sono preparato un altro cerchietto sempre ritagliato dal tubolare anche qui avvolgo e vado ad infilare sopra in modo da nascondere il nastrino ad arricchire maggiormente il mio berrettino perfetto passiamo all'incollaggio posizionatelo sulla testina del pupazzetto in questo modo direi che ci siamo mettiamo prima la colla sul davanti non troppa ecco qui e poi in base a come l'avete posizionato andate ad incollare anche sul retro piccolo trucchetto mettete un po' di colla in un punto solo prendete entrambi i spezzoni entrambi i lati e posizionatelo in un'unica volta così poi i laterali rimarranno comunque un po' elastici ecco diciamo così vado comunque a mettere un punto mini mini qui e anche dall'altro lato perfetto sistemo un attimo ecco non copriamo gli occhi adesso ovviamente il pupazzetto adesso per incollarlo lo abbiamo sistemato in un modo poi potete comunque riaprire tutte quante le onde ecco nessun problema passiamo alla decorazione allora io ho preparato beh ovviamente il nasino non avendo la carota è un triangolo piccolino di pannolenci circa un centimetro per uno e mezzo adesso io lo prendo lo piego in questo modo metto un goccio di colla per incollarlo su se stesso i due lati e ora vado a mettere un po' di colla sul lato quello più corto per andare ad applicarlo sulla nostra testina in questo modo passiamo alla decorazione qui se volete potete bloccare un attimino il panno in modo da creare un attimo una base quindi colla e un'altra volta colla per creare una specie di vestitino e adesso vado a mettere i miei due bottoncini come di consueto hanno i pupazzi di neve il primo più piccolino e ora vado a posizionare l'altro più in basso vediamo se riesco a ricavarmi un po' di spazio girando magari il panno ecco qui andrò ad incollarlo in questo modo perfetto e richiudo le mie onde bene e il mio pupazzo è pronto ho preparato anche già un'altra versione che credo mi sia uscita un po' meglio perché nel video ho un po' fatto fatica che sono cose un po' minuziose da preparare ecco pupazzetto finito spero che vi sia piaciuta la mia idea grazie per aver guardato il video ciao e alla prossima